Sì, l'importante è sempre fare punti, però penso che stiamo giocando meglio fuori casa che in casa. In casa stiamo facendo un po' di fatica a fare punti, a vincere le partite, ma continuiamo per questa strada perché stiamo andando bene. Sì, noi siamo come fratelli nel spogliatoio perché stiamo sempre insieme. Abbiamo un bel rapporto con lui, ma ha toccato a lui fare gol e io ce l'ho sempre per la squadra. Lui mi ha fatto un bel movimento e io l'ho visto, va bene, gli ho messo quella palla lì e lui è stato bravo a fare gol. Il più importante come ti dico, vincere in casa stiamo facendo un po' di fatica, però penso che siamo una squadra forte, stiamo bene, stiamo bene fisicamente. Oggi abbiamo fatto una grande partita, loro avevano bisogno di punti, hanno venuto a fare la partita, sapevamo che era una partita difficile, ma a questo punto ce lo teniamo stretti perché siamo sempre i primi in classifica. Spero di continuare a migliorare giorno dopo giorno, penso sempre a lavorare serio e giocare sempre per la squadra e fare bene per la squadra. Dopo ci sono prestazioni che verranno che è un po' difficile fare sempre bene, però continuiamo su questa strada che è importante. Io sono più trequartista, ma io gioco dove mi chiede il mister perché noi avendo un'idea di gioco ci troviamo tanto bene, io solo ascolto quello che mi dice il mister, tratto di fare quello che facciamo in allenamento e stiamo facendo bene e continuiamo così. Stelone ha portato fiducia alla squadra, sempre stare sul pezzo, andare sempre a vincere le partite, che è questo importante, andare sempre a vincere dove giochiamo, dobbiamo sempre entrare in campo per vincere la partita e questo è importante perché il giocatore deve avere la fiducia del mister e noi siamo con lui. Penso che ci sono squadre forti, penso che Pescara, Benevento, Elas, tutti questi lotteranno fino alla fine con noi e noi tratteremo di fare più punti possibili per staccare da tanti punti e pensiamo solo a questo, a stare sempre in alto e puntare sempre al campionato. A Spezia penso che è una squadra molto forte che si fa forte in casa, il campo è un po' stretto, sarà sempre una battaglia lì e noi andremo sempre, come ti ho detto, come ha portato il mister a vincere queste partite perché sono importanti per noi e pensiamo solo a fare la partita nostra e andare a vincere a Spezia. Non ho mai segnato a Spezia e speriamo, speriamo pure di giocare perché sapete che noi abbiamo giocatori forti, che tutti possono giocare e lavoreremo sempre per fare bene e vediamo se se si tocca giocare e farlo della migliomania.